In realtà questi sono dei geni della truffa perché a cascarci così è stato proprio da... non lo so, io sono stato stupido. Non c'è limite alla fantasia dei truffatori che stanno agendo in varie zone d'Italia con lo stesso modus operandi. Le vittime però questa volta non sono le persone più fragili come gli anziani, bensì i ristoratori che pronti a soddisfare le esigenze dei clienti sono caduti nella trappola dei malintenzionati. Come è successo a Vincenzo Ceglia, contitolare della Bella Napoli, il ristorante e pizzeria di Fano dotato di telecamere di videosorveglianza. In tutti i casi segnalati la truffa inizia con la telefonata di una donna che chiama l'esercente per prenotare una cena in vista di un compleanno. Ad una richiesta però vorrebbe tanto un vino particolare per fare un regalo al papà. In questo caso il libertario, un vino a sua detta, spagnolo e pregiato, che il titolare avrebbe dovuto acquistare da un importatore di Milano, Torino o Firenze perché non vendibile nelle nostre zone. E così a titolo di favore contatta il numero fornito dalla donna. Questo signor mi dice che la storia è fatta bene perché è sempre la solita signora, da stamattina mi sta tartassando con queste telefonate perché in realtà io a lei il vino non glielo posso vendere perché noi vendiamo solamente ai ristoratori oppure ai albergatori. Se lei lo vuole gli costa molto, però c'è un problema. Il vino lei non lo può vendere alla signora allo stesso prezzo che glielo do io. Lei dovrebbe vendere a 125 euro. Se lei lo vuole è così, altrimenti ne va la riputazione della ditta. Nella chiacchierata si chiude comunque l'accordo per l'acquisto delle bottiglie. Perché il nome Vitali è un nome che noi conosciamo tutti a Fano, un nome molto famoso. Ho pensato che era la sorella di una nostra cliente, ho detto ci sono cascate come una pera. In buona fede oggi. In buona fede sinceramente perché io non gli avrei chiesto neanche di più alla signora, però lui mi ha pregato di dire alla signora che sarebbe costato 125 euro la bottiglia. Il vino non fatturato per fare una cortesia alla signora viene prontamente consegnato da un giovane sui 25 anni al quale Vincenzo non ha pagato il prezzo, con la consapevolezza che tanto poi la signora a sua volta lo avrebbe rimborsato. E invece? Quando sono andato a verificare, cioè quando a bocce ferma ho visto tutte, questo mi sembra il vino dell'Eurospin, perché te li danno in una confezione di tre. No, a presente quando lei va sull'autogrill che trova quelle confezioni di vino, di tre. E quello è lo stesso vino. Non è di certo di qualità? Assolutamente no, penso perché poi ho fatto una ricerca su internet, è un vino che parte da 2,90 euro a 9 euro, 10 euro. In tutto quanto ci avrebbe rimesso? 480 euro sinceramente, però voglio dire, io ho fatto questa denuncia per far sì che, per dare un messaggio a tutti i ristoratori, perché capisco che c'è, voglio dire, sono talmente bravi questi qua a fare queste truffe che dice uno come fa a cascarci, però ci caschi perché sai al momento in cui ti prenoto, ti vengo giù, siamo in dieci, sai il ristoratore dice vabbè, sono dieci persone, un momento come questo, un po' di crisi e via di seguito, si cerca di… E così ho fatto, niente, poi alla fine alle sette e mezza avevo la testa un po' più libera e ho collegato il tutto, ho detto al mio socio, ho detto ci siamo cascati, ci sono cascati in realtà, come una peragotta, come? Ha detto sì, perché adesso ho collegato il tutto, è stata una truffa. E' la prima volta che mi fanno una truffa, sinceramente, se ne sono passate talmente tante di qua che chi ti vuole vendere questi, chi ti vuole vendere quelli, però alla fine questa è studiata così bene, è stata studiata così bene che questi signori, secondo me, se non si fermano, si fanno tutta l'Italia.